Allora vediamo nel dettaglio quali sono i contenuti del decreto Caivano con Giancarla Rondinelli. Arrivano misure più severe per i minori che delinquono. Si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Previsto l'arresto dai 14 anni in su per chi è colto in flagranza di reati come spaccio e violenza pubblico ufficiale. Scende a 12 anni l'età in cui si possono ricevere ammonimenti. Misura diretta soprattutto al contrasto del bullismo. L'adolescente verrà convocato in questura con i genitori, sanzioni pecunarie anche per loro fino a 1000 euro. Provvedimenti antidispersione scolastica e i genitori di un minore che non frequenta la scuola dell'obbligo rischiano fino a due anni di carcere. E poi il daspo urbano esteso come spiega il ministro degli interni piantedosi anche ai 14 anni. Il questore potrà ordinare ai ragazzi di lasciare il territorio dove hanno commesso azioni illegali e violente. Non solo repressione, spiega il ministro della giustizia Nordio, ma anche un percorso rieducativo. Nel decreto anche un capitolo caivano, progetto di rigenerazione urbana e sociale. 30 milioni di euro e un commissario straordinario ad hoc. Nome indicato Fabio Ciciliano.